Io c'ero durante l'attacco di Cerberus e non ricordo di averti visto. Ho solo visto di sfuggita il comandante Shepard combattere vicino agli ascensori. Beh, certo. Shepard doveva proteggere il Consiglio. Io ero impegnato altrove. Ero dalle parti dell'hangar da tracco, vicino al quartier generale dell'SSC. Ah, il comandante Shepard sta inseguendo il Consiglio. È la nostra occasione. Da merda, Cerberus. Ah, è Joker. Si regge a malapena in piedi. Come pensa di fermarci? Così. Diamo inizio alle danze. Siamo stati degli idioti a sottovalutare Joker. Sì, proprio così. Così. Siete appena naufragati sull'isola del Dottor Me. È andata più o meno così, te lo giuro. Ecco perché dovresti offrirmi da bere. No. Da, avanti. Credo a malapena ciò che dicono di Shepard. Tu, non farmi ridere. Ok, per questa volta la passi liscia. Ma se Shepard fosse qui... Deh, Shepard. Ciao. Sono il comandante Shepard. Garantisco io per il mio pilota. Jeff Moreau è un eroe. Qui dentro tutti gli devono la vita. Me incluso. Mi dispiace, comandante. Non potevo saperlo. Oggi offre la casa, tenente. Ehm, grazie, comandante. Ora sei in debito con me. Oggi offre la casa, tenente. Oggi offre la casa, tenente. Oggi offre la casa, tenente.